Speriamo di essere benedetti. Oh merda. La VLHP il tibo. Oh merda. 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 C'è la velocità di costruzione è quella. Però sono migliorato veramente tanto tanto nell'editing. E anche contro giocatori forti eh. Quindi non è che faccio questo contro giocatori scherzi. Sono molto contento di questa cosa. Spiderman. Spiderman. Bello questo piccola. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Sì. Rampino. Sì. Rampino. Non ti do. Non ti doi sempre giocare lo stesso gioco. No perché Fornet è bello aggiornato. Non mi annoia per niente. E poi c'è tempo che mi fate compagnia. Se no mi annoierai. Sì. Sì. No questo era bravo no Gappanto. Ha costruito male. Non ha messo la protezione a destra del muro. Io me ne sono approfittato instant. Cazzo potevo raccoglierlo il rampino. Mi sa che... No. 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 Allora Il mirino nero, io non ho nessun mirino nero bro Il mio mirino è bianco Che micchia dici Non sei il primo che però mi dice questa cosa Non capisco il perché davvero Come here booooooooy Ok campioncino Come here Come here Vaffan bene no Ok Pezzo di merda con i C4 Avete visto che schifo Ma che è sta nuova tecnica di usare i C4 in questo modo ragazzi Cos'è sta roba Io non ce la posso credere Cosa sta accadendo alla gente A presto A presto Grazie per la visione!